Ci sarà sabato l'incontro ufficiale fra il sindaco ed una delegazione dell'Udc che è diventato ago della bilancia per cercare di evitare il commissariamento del comune di Avezzano a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sulla cosiddetta anatrazoppa che ha assegnato la maggioranza dei consiglieri comunali alla coalizione dell'ex sindaco di Pangrazio che perse il ballottaggio con l'attuale primo cittadino De Angelis. Manca poco oramai allo scadere dei 20 giorni previsti dalla legge per il ripensamento in caso di dimissioni del sindaco. Il segretario cittadino dell'Udc, Leonardo Rosa, lancia un appello alla serietà perché, dice, la città non vuole personalismi e auspica un passo indietro di Gianni Di Pangrazio. Dottor Di Pangrazio, per senso di responsabilità di poter fare un passo indietro perché lì dove ci dovessero essere delle forme di disequilibrio nella comunicazione certamente non è che possiamo pregiudicare gli interessi della città a delle incompatibilità personali o caratteriali. Io penso che in questo, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, ci possano essere delle modalità diverse di approccio e perché no, forse anche una delegazione disponibile da parte di queste componenti ci facciamo garanti di quelli che sono stati gli equilibri che ha determinato l'elettorato di Avezzano. L'elettorato di Avezzano ha determinato determinati equilibri laddove da un lato ha scelto degli amministratori con un programma però dall'altro ha voluto un altro sindaco. Ora la domanda fondamentale è se questo sindaco deve attuare i programmi della coalizione ex di Pangrazio oppure se deve attuare i programmi della coalizione De Angelis.